Una mattina ricca di emozioni, quella trascorsa dalla Polizia di Stato al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Arnas Civico di Cristina Benfratelli di Palermo. I poliziotti e il commissariato di pubblica sicurezza Porta Nuova hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso l'ospedale civico, consegnando al personale sanitario vari oggetti, provento di furto, di cui non è stato possibile risalire ai legittimi proprietari. Gli oggetti, dispositivi preziosi e fondamentali per i piccoli degenti come integratori alimentari, materiale sterile, igienico-sanitario, strumenti utili per l'allattamento materno, sono stati recuperati e donati alla struttura ospedaliera. La proposta è stata favorevolmente accolta dall'autorità giudiziaria. Nella stessa occasione la Polizia di Stato ha restituito un conto a particelle del valore commerciale di 9.000 euro rubato lo scorso 28 dicembre all'interno di un veicolo parcheggiato nell'area di pertinenza dell'ISMET.